E' come se fossimo ripartiti da zero dopo due anni di blackout totale ma io non mi sono accontentato di stare lì seduto sullo sfondo a guardare. Ho creato un progetto, qualcosa da portare dentro e poter dire un giorno io ci ho provato. Mi sono messo in gioco fottendomene dei pareri altrui. Ho voluto trasformare questa merda di periodo in oro. Non ambisco a fare un disco d'oro. Ho puntato ad incidere il mio passato solo per potermene liberare ed essere più concentrato nel creare un futuro migliore. Quello che auguro a tutti. Fate di voi quel che nessuno farebbe. Siete voi gli artefici del vostro futuro. Fregatevene dei pregiudizi. Tanto verrete sempre criticati. Finalmente dopo un anno di duro lavoro ho il piacere di annunciare l'incisione sul disco fisico di Mood A360. Buon ascolto. Gesù. Gesù.